Musica Un saluto a tutti gli telespettatori, io sono Ilaria Galetti, vicepresidente del GILS, il gruppo italiano lotta alla sclerodermia. E' qui con noi la dottoressa Chiara Bellocchi, del Policlinico di Milano e dell'Università Statale di Milano. Dottoressa Bellocchi, vuole spiegarci in poche parole in cosa consiste la sclerosi sistemica o sclerodermia? Grazie, Ilaria. La sclerosi sistemica è una patologia rara, autoimmune e sistemica. Cosa significa sistemica? Significa che può coinvolgere diversi organi, principalmente la cute, quindi il paziente può osservare un espessimento, una fibrosi della pelle, ma anche poi può coinvolgere il cuore, il polmone, i reni e il tratto gastroenterico, avendo quindi un importante impatto sulla qualità di vita del paziente. Un'arma importantissima che abbiamo oggi contro questa patologia è sicuramente la diagnosi precoce, che può essere fatta nei casi in cui una persona presenti il fenomeno di Renault, che è una discolorazione in particolare delle dita delle mani, ai cambi della temperatura. Il colore quindi bianco, blu o rosso delle dita delle mani deve farci insospettire per la possibilità, che non c'è in tutti i casi, ma in una piccola percentuale di questi, che ci sia anche una patologia autoimmune sistemica. Tramite la capillaroscopia, che è un esame non invasivo, e la ricerca di autoanticorpi specifici, possiamo quindi permettere una diagnosi precoce di intervenire tempestivamente su questa patologia, che può essere molto impattante. Come dicevo, l'impatto di questa malattia è diverso da paziente a paziente, ma ci sono casi in cui il dolore cronico e il coinvolgimento degli organi può impattare sulla qualità di vita. Quest'anno, nel 2022, il convegno GILS si è occupato di un approccio olistico sul paziente. Ilaria, può dirci qualcosa in merito? Sì, l'abbiamo costruito sulla base di un questionario fatto in epoca pandemica, tra il 2020 e il 2021, proprio per capire quanto la malattia possa impattare sulla vita quotidiana delle persone. Ecco che i risultati sono stati strabilianti. Abbiamo un impatto dal punto di vista psicologico, quando viene fatta una diagnosi di una malattia così complessa e cronica, le persone e quindi il paziente e i familiari hanno uno shock e anche la complessità della gestione della malattia che deve essere fatta in centri cosiddetti hub, in grado di fare la diagnosi e di trattarla. Questi centri spesso sono lontani dal domicilio delle persone per cui devono perdere giornate lavorative, loro e i caregiver. Questo risulta anche con una perdita economica, i problemi fisici con cui si deve convivere, i dolori e anche la vita sociale viene affetta e cambiata dalla malattia. Quindi abbiamo pensato che puntare l'attenzione sull'approccio olistico, che vuol dire 360 gradi, partendo dal medico di base, figura cruciale nella diagnosi e nella gestione insieme agli specialisti della malattia, passando dagli ospedali in cui i medici trattano e fanno ricerca, perché la ricerca è, come diciamo noi, speranza di vita, e financo alle farmacie di quartiere e alle case di comunità che grazie al PNRR dovrebbero svilupparsi sul territorio. Quindi, ecco, l'approccio olistico e integrale e multidisciplinare della malattia. Secondo lei, dottoressa Bellocchi, abbiamo fatto bene a pensare un convegno su questa tematica oppure no? Ilaria, abbiamo fatto benissimo, proprio per quello che dicevo prima, la qualità di vita è importantissima in queste patologie e noi medici soprattutto dobbiamo ricordarci di non occuparci solo delle terapie per curare i sintomi e dell'impatto che la malattia ha su diversi organi, ma anche per valutare nel suo complesso il paziente e soprattutto fare anche ricerca su quella che è la qualità, l'impatto sulla qualità di vita di queste malattie nel paziente. Grazie, dottoressa. Ecco, emerge quindi, anche da quello che lei ha detto, un approccio multidisciplinare che non è solo con i medici. Sono tanti i portatori di interesse nella cura e nel trattamento di questa patologia. Ecco che se voi voleste in qualche modo aiutare la comunità di pazienti affetti da sclerosi sistemica, una malattia rara, ve lo ricordo, potete andare sul nostro sito www.sclerodermia.net, troverete articoli scientifici per capire meglio e più in dettaglio di cosa tratta la patologia e troverete molteplici forme per poterci aiutare e sostenere quotidianamente oppure quando ritenete di avere tempo da dedicare a noi. Vi ringraziamo in anticipo per quanto vorrete fare.